La vicenda del termovalorizzatore Fenice di Melfi è approdata nuovamente nell'Aula del Parlamentino Lucano. A relazionare sul lavoro condotto dalla Commissione d'inchiesta istituita dal Consiglio regionale è stato il Presidente dell'Organismo, Nicola Pagliuca, che ha illustrato i risultati dell'attività svolta parlando di responsabilità ed impegni disattesi dai singoli attori coinvolti a vario titolo nella vicenda. Secondo il Presidente della Commissione, infatti, enti territoriali, autorità ed organismi interessati al processo autorizzativo di controllo e di monitoraggio ambientale nell'area del vulto di Melfese, non hanno fatto fino in fondo il proprio dovere. Regione Basilicata, Arpab e provincia di Potenza hanno, secondo Pagliuca, pesanti responsabilità nella trattazione dei dati di Fenice, soprattutto in riferimento al modus operandi. Scarsa trasparenza e modalità non sempre corrette hanno infatti caratterizzato l'attività di vigilanza e di controllo. Grazie. Grazie.